Cosa succederà nelle puntate di Terra Amara dal 26 giugno al 2 luglio 2023? Scopriamolo assieme. Zuleyya riporta a Ankar di come Beyice abbia tentato di ucciderla durante il suo ricovero in ospedale. Dopo che la nipote le ha detto di ritornare a Istanbul perché stufa delle sue manipolazioni, Beyice lascia a Mushgan una lettera fittizia in cui Zuleyya confessa a Ilmaas che è lui il padre di Adnan. Mushgan si allarma per il contenuto dello scritto e cade, di nuovo, nelle manipolazioni della zia, decidendo di uccidere Zuleyya. Zuleyya riceve una minaccia da Mushgan, che le punta una pistola contro. La dottoressa, però, vuole cercare di evitare di finire in prigione. Di conseguenza, desidera che la sua rivale proceda a impiccarsi da sola. Zuleyya non sente ragioni e tenta di togliere l'arma a Mushgan. Tuttavia, nella colluttazione parte un colpo. Zuleyya ne esce ferita al petto. Mushgan riceve l'aiuto da Beyice nel mettere in scena il suicidio di Zuleyya. Poi fugge. Tutti sono sulle tracce di Zuleyya alla tenuta. È Rasit a trovarla. La donna è trasportata subito in ospedale. La piccola Uzum fa una confessione a Ankar. È al corrente di dove siano Adnan e Leila. La porta a casa di Sevda, vale a dire la donna che per anni è stata l'amante di Adnan Yaman. Ankar è sotto shock. Parla con Demir, dicendogli che non vuole vederlo mai più. Poi decide di prendere i bambini e riportarli alla villa. È lì che apprende quanto siano gravi le condizioni di Zuleyya. Sia Demir sia il Maas si recano in ospedale e vanno a trovare Zuleyya. La donna è ancora priva di sensi a seguito dell'operazione che ha preservato la sua vita. Davanti agli occhi di Mushgan, i due uomini si scontrano. Mentre la sua rivale versa in gravi condizioni in ospedale, Mushgan ha paura che possa sopravvivere. Se così fosse, potrebbe smentire il suicidio. Al momento tutti pensano che abbia tentato di togliersi la vita. Istigata da Beice, Mushgan decide di negare ogni suo coinvolgimento o responsabilità sull'accaduto. Quando Zuleyya si risveglia, fra lei e Mushgan, ha luogo uno scontro durissimo. Demir si pente di tutto il male che ha provocato a Zuleyya e promette di riportarle i figli. Nel frattempo, il Maas confessa a Fekeli di avere intenzione di chiedere il divorzio da Mushgan. Per non perdere le prossime anticipazioni, iscriviti al canale.